bella a tutti ragazzi siamo quelli della porta accanto e siamo su collo di model warfare 3 ho detto male ma dettagli stile arabo incazzato esattamente e allora per chi non lo sa stiamo giocando a un colpo in canna con lanciato razzi fg rp giro tanto questo parola è la parola la parola è la parola allora la parola abbiamo la parola tagliate il momento in cui di scopo oltre alla propria minacce minacci ma che non è un po' e io spero solo che riesca a fare un zoom sul posto sul video a te che mi faccio ognuno è speciale ognuno speciale raga non so chi sono io sono quello in basso a destra io mi rifaccio io so voi chi è là? oddio tropporta si sta perchè sto a giocare a folle wow no no ma pure la coltellare va bene qualcosa tipo questo vuoi vedere la cosa bella io no ho abbassato fra te ragazzi io moro che devo qua allora vedetemi è buono che devo qua nooo raga nooo col coltello si può fare solo se non c'è cani bastardi no no si può fare tranquillamente distruzione di massa eccolo coltello nooo 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 che sta nell'aereo nooo colpo alla testa sta qualcuno che mi sta inseguendo coltello però è veramente da da mi chiamano coltello e che palle ma c'è razzi le parole ma c'è razzi mi chiamavano coltello mi chiamavano coltello e che palle e che palle e che palle oh non oggi e neanche nooo e neanche domani ci sarà un giorno in cui i giornali anzi finiranno vado questo giorno ooo oh vedete non mi eluore eh oh allora questo sei di vero oh cosa c'è ahah sicili assistito si che sono ammazzata su eh no 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 nooo aspetta aspetta sei quello te sei quello eh non è questo il giorno non è questo il giorno non è questo il giorno ma non è questo il giorno e neanche questo vabbè qua la cazzo serica 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 cattivica eh eh ahahah tuoi sbomba fatta da brisco fatta da brisco no regalo eh vieni qui vieni ahahah vieni che balle regalo ma tricciato da dietro no no che ho fatto oh l'ho passato diciamo allora no sei l'amera io spunto sparando ma come cavole ma mi spara a te hai sto il coltello dell'rpg no vieni qui nooo nooo mi chiamavano cerere coltello come a me mi chiamavano il gioco ritorno ragazzi che partita spuga lui oh spuga 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 eeeh coltello si insomma ho vinto coltello vince sempre oh è passato accanto a qualcuno si sempre io sempre lui coltello uccidetevi uccidetevi ma non muori vieni non ammazzati non ammazzati due va bene ragazzi ecco l'uccisione finale guarda che bello un dildo volante esplosivo e prende la macchina e prende la macchina e prende la macchina bene è stato molto divertente come il solito questa partita cazzo può finire qui si dai si si che poi dovrò montare anche il video su little big planet e penso che uscirà prima questo perchè quello dura mezz'ora eeeh guardatelo poi perchè è figo mettete un mi piace lasciate un commento e uccidete le persone e guardate tutto il video anzi se siete arrivati qui bravi 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 bravi